Eccoci qui, ho passato Bressanone da circa 10 km, no 6-7, e sono quasi arrivato a fortezza. Ho passato anche il mio primo temporale, tutto a posto, comunque mi si è infiammata un po' la bandelletta del ginocchio destro, ma ho camminato abbastanza dopo mezzogiorno. Ho pensato, guarda te, che invece è in fabbrica, che sta lavorando da 8 ore, e io mi lamento la bandelletta del ginocchio. Sto bene, finalmente il sole è andato un po' via, e adesso manca poco, cerco una sistemazione sul paese, anche se mi hanno detto che è molto piccolo, speriamo ci sia anche una camera, magari la cerco perché sta venendo su un po' il temporale, e domani il tempo permettendo si punta al Brennero. Intanto vi faccio vedere un po' il paesaggio che mi ha accompagnato per qualche chilometro. Grazie a tutti, vedo sempre che siete in tanti a seguirmi, vi mando un grosso bacio, forza a tutti, ciao ragazzi!